Io Pippo tutto polino, quando Vettomini gli faccio l'occolino, io Pippo questo è il mio nome, il giorno di questi svaliggio va per roghe. Wehi Vagnuni, alle prossime elezioni mi raccomando votate Zagor se no votirò le ricche. Traduco, votate Zagor se no votirò le orecchie, perché Zagor è uno che mantiene le promesse. Come vedremo nella recensione del Maxi Zagor che mi accingo a fare. Bentornati nella soffitta di Pippo, io naturalmente sono di Vintendo, non sono Pippo, Pippo lo già. Prima di procedere con la recensione del Maxi Zagor ho appena preso un'edicola a questo. Zagor gli origini, ve lo mostro ancora non l'ho letto, quindi non so assolutamente di cosa parla. Vi limito solo a mostrarvi un po' graficamente come si presenta. Allora si presenta come un albo di grande formato, c'è il formato quello parente di Morgan Lost, l'ultimo formato della Bonelli con cui sta pubblicando svariate cose. 64 tavole, 66 pagine in tutto, pochine, a colori, prezzo 3,90 euro. Ho scoperto che costava 3,90 euro quando ho dato i soldi al edicolante e mi ha dato di resto 10 centesimi. e mi aspettavo che costasse, ho detto, ah, costa, forse c'è il sole, non so se mi vedete bene. Mi sposto un po' così. Ah, costa 3,90 euro, va bene. Insomma, 66 pagine, 3,90 euro. Certo, è a colori. E storia di, vi dico qualche, qualche informazione, soggetto e sceneggiatura, naturalmente, di Moreno Burattini, disegni di Maurizio Di Vincenzo e Valerio Piccioni. Con la nazione, copertina di Michele Rubini, e basta, faccio vedere, partiamo dalla copertina di Rubini, che a me piace, sinceramente, perché è una bella copertina. È uno zagoro in piedi, vediamo da una parte l'Indian, c'è quindi un po' quello che è il paesaggio di Darkwood, no? Questa foresta che si estende al di là, una capanna che brucia. Ha una bella copertina, vi faccio vedere anche la prossima. Non direi le copertine promosse, anche se mi piacciono di più quelle della serie regolare, sono... le apprezzo di più, sinceramente, rispetto a questo. Non so se con questo sole voi mi vedete. Sì, sono un po' studato perché sono tornato adesso, praticamente. L'ho preso Aurora, sono andato in bicicletta, perché sono ecologista, e sono andato in bicicletta a prendere questo zagoro in edicola appena, appena uscito, fresco, 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 e ve lo volevo mostrare. Vi faccio vedere qualche disegno, senza spoilerarvi e spoilerarmi. Questo è il frontespizio. C'è pure il frontespizio, quindi le pagine di storia sono davvero pochine, secondo me. E questi sono i disegni, spoiler, un'aquila, vabbè. Non male, direi, no? Anche il colore è un colore acquarellato, una colorazione, no? Il stile acquarellato, che secondo me... Vabbè, poi ho bisogno anche di queste cose proprio computer art. Vabbè, è chiaro che la colorazione è digitale, però non è male, ecco, non è... Non è una colorazione pesante, ecco, lo vediamo anche qui, no? Sul... Quello è, diciamo, un po' monocrome, si presta bene. Lo leggerò e vi farò sapere, perché in questo video volevo parlarvi, questo è quello che trovate in edicola, tra poco, i primi del mese, uscirà anche la seconda parte, con un poster e un omaggio, mi raccomando, non perdetelo. I servi di Chrome, il prossimo numero si intitola La vittima sacrificale, uscirà il 4 giugno. La copertina colore, bianco e nero. Allora, recensione Maxi Zagor, numero, numero, che numero siamo arrivati? Non lo so, non c'è scritto qua sopra. Maxi Zagor, il 36 addirittura, sono usciti il 36 Maxi Zagor. Una storia di Mandriani, una storia completa di quasi 300 pagine, 288 pagine. Una storia che a me, personalmente, è piaciuta. Storia di Moreno Burattini, disegni di Olivero Gramaccioni, copertina di Piccinelli. Partiamo subito dalla copertina, anche qui uno Zagor in piedi. questo Zagor statuato, votatelo, ma votatelo solo per questo? Cioè, per la sua statuarietà? Votatelo. Con un cavallo accanto, poi ci sono i Mandriani. Allora, piccola tiratina di orecchie, per cominciare. Perché vi faccio vedere, dietro c'è scritto l'antefatto della storia, no? L'amante promessa dal governo americano degli Osages, perché possono sostentarsi durante l'inverno, è nei territori, allora assegnati dai trattari di pace. Stanno sottratte per le rosse, che rischiano di morire di nedia, e minaccio di scendere sul sentiero di guerra. Zagor inizia la lotta contro il tempo per recuperare il bestiame razziato e ricondurlo a villaggio indiano. Vabbè, fin qua niente di... Dovendo affrontare i criminali che se ne sono i possessati. Per farlo, oltre a Cico, questa è la cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, perché un cazzo parla, per farlo, oltre a Cico, lo spirito con la scura può contare soltanto sull'aiuto di tre Mandriani che non hanno trovato altri ingaggi. Uno zoppo, un cowboy di colore, un cowboy di colore, che cosa vuol dire un cowboy di colore? E un ubriacone. Ecco, cioè, a me questo cowboy di colore mi ha fatto un po' storcere il naso, no? Allora, anzitutto perché di colore non vuol dire niente. Cioè, non lo so, questo il... Allora, a me, il politicamente corretto mi ha un po' CLC, no? Allora, cioè, o dici, no, che il cowboy è nero, cioè, o non lo specifichi, ma poi, perché specificarlo per il cowboy? Cioè, e non specificarlo anche per lo zoppo e l'ubriacone? Cioè, allora, o dici, no, è uno zoppo non di colore, il cowboy di colore, è l'ubriacone, non di colore. Cioè, a me questa cosa qua del... Non so, la vedo un po'... Non mi piace, ecco, il politicamente corretto non mi piace. Soprattutto sui fumetti, no? Non mi è mai piaciuto, anche se qui mi è piaciuto molto, perché ho visto uno zagolo molto, molto cazzuto, poi ci sono anche delle scene abbastanza violente che non mi aspettavo. C'è anche una scena, senza spoilerare, che mi ha lasciato una cosa, una cosa qui che mi ha lasciato che è una scena diciamo, di violenza sugli animali, ecco, cioè, a me datemi squartamenti, datemi quello che volete, ma se vedo una scena di violenza sugli animali sto male, sto malissimo. e come sarà possibile condurre a termine l'impresa con una compagine così improbabile? Lo scopriremo solo leggendo. Lo scopriremo solo leggendo, solo che adesso ho paura di farvi vedere i disegni, ora che questa avventura sta diventando una cosa seria. Disegni di Olivero Gamaccioni. Ok, qui apriamo un capitolo, apriamo. A me i disegni ve li faccio vedere così capirete di cosa sto parlando. Allora, io ho letto su Facebook, ecco, forse magari sui volti do ragione un po' ai commenti su Facebook, per il resto no, perché il mood di Gamaccioni mi piace moltissimo. Dicevo, ho letto i commenti su Facebook ne dicevano tutti i colori, disegni brutti, non si possono vedere, ma oh, ragazzi, ma se questi sono disegni brutti, voi disegni brutti, vi meritate davvero la merda, vi meritate? Questi non sono disegni brutti. Allora, io l'avevo già apprezzato su un altro maxi che si chiamava, mi pare, la pista della speranza, ma avevo già avuto modo di apprezzarlo. Allora, secondo me, per i maxi, mi piacciono un sacco le tavole, adesso vi trovo qualche tavola di quelle a piena pagina, o a tre quarti di pagina, che mi sono piaciute tantissimo e avevo già avuto modo di apprezzarlo, tipo queste. Cioè, guardate, oh, ragazzi, sveglia, cioè, disegni brutti, cioè, ma dove cazzo rivedete i disegni brutti? Guardate, cioè, guardate che sono belli. E io lo trovo il disegnatore perfetto per queste storie lunghe, perché se fosse stato, senza fare nomi, altri disegnatori magari più pesanti, come a livello di inchiostrazione, 288 pagine sarebbero state, diciamo, belle pesanti da leggere. Mentre, Grammaccioni comunque riesce a questa luminosità, a questa anche semplicità, cioè, che poi un disegnatore, no? Il disegno non è che si pesa un tanto al chilo, cioè, dalla quantità di segni che uno mette sulla vignetta, no? Altrimenti Ugo Pratt non esisterebbe Ugo Pratt, voglio dire. Un disegnatore vince sulla comunicazione. Secondo me Grammaccioni sulla comunicazione vince. tranquillamente, perché, ripeto, 288 pagine disegnate da lui con questa semplicità, con questa luminosità di immagini, ecco, vedete, ha reso la lettura molto scorrevole, l'ha reso molto scorrevole, storia che, non vi farò spoiler sulla storia, però ve lo straconsiglio perché mi è piaciuta tantissimo ed è una storia atipica perché tipicamente western, cioè, è una storia western di Zagor. Mi ha ricordato un albo bellissimo di un altro personaggio che io amo, adoro, che è Ken Parker, la storia si chiamava Uomini, Bestie ed Eroi, storia che vi consiglio anche quella di recuperare perché è bellissima. l'argomento trattato è un po' quello, questi mandriani che si spostano con questi capi lungo sentieri, praterie, incontrando vicissitudini di tutti i tipi. Ci sono anche delle parti commoventi e alla fine però gli osages che avevano votato per Zagor hanno fatto bene perché come dicevo a differenza dei nostri politici Zagor mantiene le promesse quindi votate Zagor mi raccomando andate in edicola e recuperate questa piccola perla che faccio vedere anche la scena finale senza spoilerarvi tanto comunque non spoilerate questi capi di bestiame bello mi sono piaciuti sia i disegni sia anche la storia che devo fare i complimenti a Moreno Burattini perché ci ha messo un po' di di cazzimma dentro cioè vediamo uno Zagor che prima vena pugni e poi parla è uno Zagor che a me piace sinceramente no? non mi piacciono gli Zagor lo Zagor filosofo non mi piace tanto ecco qui va a trovare il tipo cioè prima ancora di dire una parola di dire una parola sbangono gli assesta un diretto bello bravo Zagor così si trattano i cattivi politicamente corretto ripeto a CLC poi scrive magari chiedetemi sotto i commenti cosa vuol dire CLC perché ancora non lo sa mi è piaciuto complimenti complimenti agli autori mi è piaciuto più del precedente Maxi anche se questa è una formula completamente diversa però mentre il precedente Maxi diciamo mi è piaciuto al 50% questo è un albo promosso al 100% ribadisco sia per la storia sia per i disegni mi raccomando cioè approcciatevi al disegno di Cramaccioni nella maniera giusta ecco non da ignoranti per favore io che dire spero che questa recensione vi sia stata utile come sempre fatemi sapere sotto nei commenti se l'avete letto che cosa ne pensate se anche voi avete preso Zagor le origini senza farmi spoiler perché ancora lo devo leggere mi raccomando se il video vi è piaciuto condividetelo e ci vediamo alla prossima sempre qui sulla soffitta di Pippo ciao ragazzi ciao 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 ciao